Salve, il Natale come sappiamo è un periodo di buoni propositi, è quello di Acciona Mobilità, Roma Capitale, Roma di Servizi e Mobilità, e quello di promuovere la mobilità sostenibile. Per questo, se ancora non avete utilizzato gli scooter sharing di Acciona, potresti farlo con 30 minuti gratuiti, semplicemente registrandovi sulla nostra app, Acciona Mobilità. Inoltre, per i clienti che ormai utilizzano il nostro servizio, ci saranno tantissime promozioni con pack di minuti allevolati, sia sulla nostra app che sui nostri profili social, per tutto il periodo natalizio. Vi auguro un buon Natale e un felicissimo 2023.